Cari cittadini russi, cari amici, oggi ritengo ancora una volta necessario tornare sui tragici eventi accaduti nel Donbass e sulle questioni chiave per garantire la sicurezza della stessa Russia. Vorrei iniziare con quanto detto nel mio discorso del 21 febbraio di quest'anno. Stiamo parlando di ciò che ci provoca particolare preoccupazione e ansia, di quelle minacce fondamentali che anno dopo anno, passo dopo passo, vengono create in modo rude e senza tante cerimonie da politici irresponsabili in Occidente nei confronti del nostro paese. Intendo l'espansione del blocco Nato ad est, avvicinando le sue infrastrutture militari ai confini russi. È noto che per 30 anni abbiamo cercato con insistenza e pazienza di raggiungere un accordo con i principali paesi della Nato sui principi di una sicurezza uguale e indivisibile in Europa. In risposta alle nostre proposte abbiamo costantemente affrontato o cinici inganni e bugie o tentativi di pressione e ricatti, mentre nel frattempo l'Alleanza Nord-Atlantica, nonostante tutte le nostre proteste e preoccupazioni, è in costante espansione. La macchina militare si muove e, ripeto, si avvicina ai nostri confini. Ma perché sta succedendo tutto questo? Da dove viene questo modo sfacciato di parlare da una posizione di esclusività, infallibilità e permissività? Da dove viene questo atteggiamento sprezzante e indifferente nei confronti dei nostri interessi e richieste assolutamente legittime? La risposta è chiara. Tutto è chiaro. È ovvio. L'Unione Sovietica alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso si è indebolita e poi è completamente crollata. L'intero corso degli eventi di allora è una buona lezione per noi oggi. Ha dimostrato in modo convincente che la paralisi del potere e della volontà è il primo passo verso la degradazione completa e l'oblio. Non appena noi abbiamo perso la fiducia in noi stessi per qualche tempo, l'equilibrio di potere nel mondo si è incrinato. Tutto questo ha portato al fatto che i precedenti trattati ed accordi non sono più effettivamente in vigore. La persuasione e le queste non hanno aiutato. Tutto ciò che non soddisfa il gruppo egemonico al potere viene dichiarato arcaico, obsoleto e non necessario. E viceversa, tutto ciò che sembra vantaggioso per loro viene presentato come la verità ultima, promossa a tutti i costi, anche rozzamente, con tutti i mezzi, i dissidenti. Sono messi in ginocchio. Quello di cui sto parlando ora non riguarda solo la Russia e non solo noi. Questo vale per l'intero sistema di relazioni internazionali e talvolta anche per gli stessi alleati degli Stati Uniti. Dopo il crollo dell'URSS iniziò effettivamente la spartizione del mondo e le norme di diritto internazionale sviluppate a quel tempo e quelle chiave fondamentali furono adottate alla fine della Seconda Guerra Mondiale e ne consolidarono ampiamente i risultati. Dicevo, le norme, quelle norme di diritto internazionale cominciarono ad interferire ed ostacolare coloro che si dichiararono vincitori nella guerra fredda. Certo, nella vita pratica, nelle relazioni internazionali, nelle norme di regolamentazione bisogna tener conto dei cambiamenti della situazione mondiale e dello stesso equilibrio di potere. Tuttavia, questo avrebbe dovuto essere fatto in modo professionale, fluido, con pazienza, tenendo conto e rispettando gli interessi di tutti i paesi e comprendendo le proprie responsabilità. Ma questo non è avvenuto. In uno stato di euforia, da superiorità assoluta, una sorta di moderna forma di assolutismo, sulla base di un basso livello di cultura generale e arroganza di coloro che hanno preparato, adottato e spinto decisioni vantaggiose solo per se stessi, la situazione iniziò a svilupparsi secondo uno scenario differente. Non c'è bisogno di andare lontano per trovare degli esempi. In primo luogo, senza alcuna sanzione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, hanno condotto una sanguinosa operazione militare contro Belgrado, utilizzando aerei e missili proprio nel centro dell'Europa. Diverse settimane di continui bombardamenti su città civili, su infrastrutture di supporto vitali. Dobbiamo ricordare questi fatti perché alcuni colleghi occidentali non amano ricordare questi eventi e quando ne parliamo preferiscono indicare non le norme del diritto internazionale, ma le circostanze che interpretano come meglio credono. Poi è stata la volta dell'Iraq, della Libia, della Siria. L'uso illegittimo della forza militare contro la Libia e la perversione di tutte le decisioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla questione libica hanno portato alla completa distruzione dello Stato, all'emergere di un enorme focolaio di terrorismo internazionale e il Paese è precipitato in una catastrofe umanitaria che ancora oggi prosegue in guerra civile. La tragedia che ha condannato centinaia di migliaia, milioni di persone, non solo in Libia ma in tutta questa regione, ha dato luogo ad un massiccio esodo migratorio dal Nord Africa e dal Medio Oriente verso l'Europa. Un destino simile è stato preparato per la Siria. L'azione militare attuata dai combattenti della coalizione occidentale sul territorio di quel Paese, senza il consenso del governo siriano e la sanzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, non è altro che un'aggressione, un intervento. Tuttavia un posto speciale in questa serie è occupato ovviamente dall'invasione dell'Iraq, attuata senza alcun fondamento giuridico. Il pretesto scelto sono state presunte informazioni affidabili acquisite dagli Stati Uniti sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq. A riprova di ciò, pubblicamente davanti al mondo intero, il segretario di Stato americano ha agitato una specie di provetta con una polvere bianca, assicurando a tutti che si trattava dell'arma chimica sviluppata in Iraq. E poi si è scoperto che era tutta una montatura, un blef. Non ci sono armi chimiche in Iraq. Incredibile, sorprendente, ma il fatto rimane. C'erano bugie al più alto livello statale dall'alto podio delle Nazioni Unite e di conseguenza ci furono enormi perdite, distruzione e un'incredibile ondata di terrorismo. In generale si ha l'impressione che praticamente ovunque, in molte regioni del mondo dove l'Occidente viene a stabilire il proprio ordine, il risultato siano ferite sanguinose e non rimarginabili, ulcere del terrorismo internazionale e dell'estremismo. Tutto ciò che ho detto è il più eclatante, ma non certo l'unico esempio di inosservanza del diritto internazionale. Anche le promesse fatte al nostro Paese di non espandere la Nato nemmeno di un centimetro verso est sono state tra questi esempi. Lasciate che ve lo ripeta, mi hanno ingannato o per dirla in gergo, semplicemente sono stato messo in scacco. Sì, si sente spesso dire che la politica è un affare sporco. Forse, ma non così sporco, non fino a questo punto. Dopotutto, un tale comportamento disonesto non contraddice solo i principi delle relazioni internazionali, ma soprattutto le norme morali generalmente riconosciute. Dove sono la giustizia e la verità qui? Solo un mucchio di bugie e ipocrisia. Per inciso, gli stessi politici, politologi e giornalisti americani scrivono e dicono che negli ultimi anni negli Stati Uniti si è creato un vero e proprio impero della menzogna. È difficile non essere d'accordo con questo. È vero. Ma non c'è bisogno di essere moderati. Gli Stati Uniti sono ancora un grande Paese, una potenza che forma il sistema. Tutti i suoi satelliti non solo offrono il loro rassegnato e doveroso assenso, unendo la propria voce in ogni circostanza, ma copiano anche il suo comportamento e accettano con entusiasmo le regole che propone. Pertanto, ha ragione, possiamo affermare con sicurezza che l'intero cosiddetto blocco occidentale, formato dagli Stati Uniti d'America, a propria immagine e somiglianza, è tutto lo stesso impero della menzogna. Per quanto riguarda il nostro Paese dopo il crollo dell'URSS, nonostante tutta l'apertura senza precedenti della nuova Russia moderna, la disponibilità a lavorare onestamente con gli Stati Uniti e altri partner occidentali e nelle condizioni di un disarmo praticamente unilaterale, hanno immediatamente cercato di schiacciarci, finirci e distruggerci completamente. Questo è esattamente quello che è successo negli anni 90 e nei primi anni 2000, quando il cosiddetto occidente collettivo ha sostenuto più attivamente il separatismo e le bande mercenarie in Russia. E quello che abbiamo dovuto affrontare prima di spezzare finalmente la schiena al terrorismo internazionale nel Caucaso, in termini di sacrifici e perdite, lo ricordiamo bene e non lo dimenticheremo mai. Di fatto, fino a poco tempo fa, si sono protratti i tentativi di usarci per il loro proprio interesse, di distruggere i nostri valori tradizionali e di imporci i loro pseudovalori che corroderebbero noi e la nostra gente dall'interno, quegli atteggiamenti che già stanno imponendo in modo aggressivo nei loro paesi e che hanno portato direttamente al degrado e alla degenerazione, perché contraddicono la natura stessa dell'uomo. Non succederà, non ha mai funzionato per nessuno, non funzionerà neanche adesso. Nonostante tutto, nel dicembre 2021 abbiamo comunque tentato ancora una volta di trovare un accordo con gli Stati Uniti e i suoi alleati sui principi di sicurezza in Europa e sulla non espansione della NATO. Tutto in vano. La posizione degli Stati Uniti non è cambiata. Non ritengono necessario negoziare con la Russia su questa questione fondamentale per noi. Proseguono i propri obiettivi trascurando i nostri interessi. E naturalmente questa situazione fa sorgere la domanda. Cosa aspettarsi? Sappiamo bene dalla storia come negli anni 40 e all'inizio del 41 l'Unione Sovietica abbia fatto del suo meglio per prevenire o almeno ritardare lo scoppio della guerra. A tal fine, tra l'altro, ha cercato letteralmente fino all'ultimo di non provocare un potente aggressore, non eseguendo o rimandando le azioni più necessarie e ovvie per prepararsi a respingere un inevitabile attacco. E i passi che furono fatti alla fine furono fatti troppo tardi, con risultati catastrofici. Di conseguenza, il Paese non era preparato ad affrontare pienamente l'invasione della Germania nazista che attaccò la nostra patria senza una dichiarazione di guerra il 22 giugno 1941. Il nemico fu fermato e poi schiacciato, ma a un costo colossale. Il tentativo di compiacere l'aggressore alla vigilia della grande guerra patriottica si è rivelato un errore che costò caro al nostro popolo. Nei primissimi mesi di ostilità abbiamo perso enormi territori strategicamente importanti e milioni di persone. Non faremo un simile errore una seconda volta, non ne abbiamo il diritto. Coloro che rivendicano il dominio del mondo, pubblicamente, impunemente e sottolineo senza alcun motivo, dichiarano noi, la Russia, il loro nemico. E infatti hanno oggi grandi capacità finanziarie, scientifiche, tecnologiche e militari. Ne siamo consapevoli e valutiamo oggettivamente le minacce che ci vengono costantemente rivolte in ambito economico, così come la nostra capacità di resistere a questo ricatto sfacciato e permanente. Ripeto, li valutiamo senza illusioni, in modo estremamente realistico. Per quanto riguarda la sfera militare, la Russia moderna, anche dopo il crollo dell'URSS e la perdita di una parte significativa del suo potenziale, è oggi una delle potenze nucleari più potenti del mondo e inoltre ha apportato vari miglioramenti ad un significativo numero di armi all'avanguardia. A questo proposito, nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che un attacco diretto al nostro paese porterebbe alla sconfitta e a terribili conseguenze per qualsiasi potenziale aggressore. Allo stesso tempo, le tecnologie, comprese quelle di difesa, stanno cambiando rapidamente. La leadership in quest'area sta passando e continuerà a passare di mano in mano, ma lo sviluppo militare dei territori adiacenti ai nostri confini, se lo consentiamo, durerà per i decenni a venire, forse per sempre, e creerà un senso di minaccia sempre crescente e assolutamente inaccettabile per la Russia. Anche ora, mentre la NATO si espande ad est, la situazione per il nostro paese sta peggiorando e diventa ogni anno più pericolosa. Inoltre, in questi giorni la leadership della NATO ha parlato apertamente della necessità di accelerare, di accelerare l'avanzamento delle infrastrutture dell'alleanza fino ai confini della Russia. In altre parole, stanno rafforzando la loro posizione. Non possiamo più limitarci a osservare ciò che sta accadendo. Sarebbe completamente irresponsabile da parte nostra. L'ulteriore espansione dell'infrastruttura dell'alleanza nord-atlantica, lo sviluppo militare dei territori dell'Ucraina che ha iniziato, è inaccettabile per noi. Il punto naturalmente non è l'organizzazione NATO in sé, che è solo uno strumento della politica estera degli Stati Uniti. Il problema è che nei territori adiacenti ai nostri, faccio notare, nei nostri stessi territori storici, si sta creando una anti-Russia, a noi ostile, che è stata posta sotto pieno controllo esterno e intensamente colonizzata dalle forze armate dei paesi della NATO ed è dotata delle armi più moderne. Per gli Stati Uniti e i suoi alleati questa è la cosiddetta politica di contenimento della Russia, un ovvio dividendo geopolitico. Ma per il nostro paese questa è in definitiva una questione di vita o di morte, una questione del nostro futuro storico, come popolo. E questa non è un'esagerazione, è vero. Questa è una vera minaccia, non solo per i nostri interessi, ma anche per l'esistenza stessa del nostro Stato, la sua sovranità. Questa è la linea rossa di cui si è parlato ripetutamente. L'hanno superata. A questo proposito, e sulla situazione nel Donbass, possiamo vedere che le forze che hanno realizzato il colpo di Stato in Ucraina nel 2014 hanno preso il potere e lo stanno mantenendo con l'aiuto di procedure elettorali di fatto decorative e hanno definitivamente abbandonato la soluzione pacifica del conflitto. Per otto anni, otto anni infiniti, abbiamo fatto tutto il possibile per risolvere la situazione con mezzi pacifici e politici. Tutto in vano. Come ho detto nel mio precedente discorso, non si può guardare ciò che sta accadendo lì senza compassione. Semplicemente non era più possibile tollerare tutto questo. Era necessario fermare immediatamente questo incubo. Il genocidio di milioni di persone che vivono lì, che fanno affidamento solo sulla Russia e sperano solo in noi e in me. Sono state queste aspirazioni, sentimenti, il dolore delle persone. Queste sono state le motivazioni principali della nostra decisione di riconoscere le repubbliche popolari del Donbass, cosa che credo sia importante sottolineare ulteriormente. I principali paesi della Nato, al fine di raggiungere i propri obiettivi, sostengono in tutto i nazionalisti estremi e i neonazisti in Ucraina, che a loro volta non perdoneranno mai i residenti della Crimea e gli abitanti di Sebastopoli per la loro libera scelta, la riunificazione con la Russia. Ovviamente andranno in Crimea e, proprio come nel Donbass, porteranno avanti la guerra per uccidere attraverso le bande punitive dei nazionalisti ucraini, come i collaboratori di Hitler, che durante la Grande Guerra Patriotica hanno ucciso persone inermi. Dichiarano apertamente di rivendicare un certo numero di altri territori russi. L'intero corso degli eventi e l'analisi delle informazioni che arrivano mostrano che lo scontro tra la Russia e queste forze è inevitabile. È solo una questione di tempo. Si stanno preparando, aspettano il momento opportuno. Ora affermano anche di possedere armi nucleari. Non permetteremo che questo avvenga. Come ho detto prima, dopo il crollo dell'URSS la Russia ha accettato nuove realtà geopolitiche. Noi rispettiamo e continuiamo a trattare con rispetto tutti i paesi di nuova formazione nello spazio post-sovietico. Noi rispettiamo e continueremo a rispettare la loro sovranità. E un esempio di questo è l'assistenza che abbiamo fornito al Kazakhstan, che ha dovuto affrontare tragici eventi ed una sfida alla sua statualità e integrità. Ma la Russia non può sentirsi sicura, svilupparsi, esistere con una minaccia costante proveniente dal territorio dell'Ucraina moderna. Permettetemi di ricordarvi che nel 2000-2005 abbiamo respinto militarmente i terroristi nel Caucaso, difeso l'integrità del nostro Stato e salvato la Russia. Nel 2014 abbiamo sostenuto la popolazione della Crimea e di Sebastopoli. Nel 2015 abbiamo usato le nostre forze armate per creare un'efficace barriera alla penetrazione dei terroristi dalla Siria in Russia. Non avevamo altro modo per proteggerci. La stessa cosa sta accadendo ora. Semplicemente a noi non è lasciata alcuna altra opportunità di proteggere la Russia, il nostro popolo, tranne quella che siamo costretti a sfruttare oggi. Le circostanze richiedono un'azione decisa e immediata. Le Repubbliche Popolari del Donbass si sono rivolte alla Russia con una richiesta d'aiuto. A questo proposito, in conformità con l'articolo 51 della parte 7 della Carta delle Nazioni Unite, con l'approvazione del Consiglio della Federazione Russa e in applicazione dei trattati di amicizia e di assistenza reciproca, ratificati dall'Assemblea federale il 22 febbraio di quest'anno con la Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Lugansk, ho deciso di condurre un'operazione militare speciale. Il suo obiettivo è quello di proteggere le persone che sono state sottoposte ad abusi e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni e a questo scopo ci adopereremo per la smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina, nonché di assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi e sanguinosi crimini contro i civili, compresi i cittadini della Federazione Russa. Allo stesso tempo i nostri piani non includono l'occupazione dei territori ucraini, non imporremo nulla a nessuno con la forza. Allo stesso tempo sentiamo dire in Occidente sempre più spesso che i documenti firmati dal regime totalitario sovietico che sanciscono i risultati della Seconda Guerra Mondiale non dovrebbero più essere applicati. Ebbene, qual è la risposta a questo? I risultati della Seconda Guerra Mondiale sono sacri, così come i sacrifici fatti dal nostro popolo sull'altare della vittoria sul nazismo. Ma questo non contraddice gli alti valori dei diritti umani e delle libertà basati sulla realtà che si sono sviluppate nei decenni del dopoguerra fino ad oggi. Inoltre, non annulla il diritto delle nazioni all'autodeterminazione sancito dall'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite. Lasciate che vi ricordi che né durante la creazione dell'URSS né dopo la Seconda Guerra Mondiale qualcuno ha mai chiesto alle persone che vivono nei territori dell'Ucraina odierna come volessero organizzare le loro vite. La nostra politica si basa sulla libertà. La libertà di scelta di ognuno di determinare autonomamente il proprio futuro e il futuro dei propri figli. E riteniamo importante che questo diritto, il diritto di scegliere, possa essere esercitato da tutti i popoli che vivono sul territorio dell'odierna Ucraina, da chiunque lo desideri. A questo proposito mi rivolgo ai cittadini ucraini. Nel 2014 la Russia è stata obbligata a proteggere gli abitanti della Crimea e di Sebastopoli da coloro che tu stesso chiami nazisti. La popolazione di Crimea e Sebastopoli ha scelto di stare con la loro patria storica, con la Russia, e noi li abbiamo sostenuti. Ripeto, semplicemente non abbiamo potuto fare diversamente. Gli eventi di oggi non sono collegati al desiderio di violare gli interessi dell'Ucraina e del popolo ucraino. Sono legati alla protezione della stessa Russia, da coloro che hanno preso in ostaggio l'Ucraina e stanno cercando di usarla contro il nostro paese e il suo stesso popolo. Ripeto, le nostre azioni sono autodifesa contro le minacce che si stanno formando verso di noi e contro un disastro ancora più grande di quello che sta accadendo oggi. Per quanto difficile possa essere, vi chiedo di capirlo e di chiedere collaborazione per voltare al più presto questa tragica pagina e andare avanti insieme. Per non permettere a nessuno di interferire nei nostri affari, nelle nostre relazioni, ma per costruirle da soli, in modo che si creino le condizioni necessarie per superare tutti i problemi e nonostante la presenza di confini statali, ci si possa rafforzare dall'interno, nel suo insieme. Io credo in questo, perché in questo è il nostro futuro. Vorrei anche rivolgermi al personale militare delle forze armate ucraine. Cari compagni, avete giurato fedeltà al popolo ucraino e non alla giunta antipopolare che saccheggia l'Ucraina ed eride queste stesse persone. Non seguite i suoi ordini criminali. Vi esorto a deporre immediatamente le armi e ad andare a casa. Mi spiego meglio. Tutti i militari dell'esercito ucraino che soddisfano questo requisito potranno lasciare liberamente la zona di combattimento e tornare alle proprie famiglie. Ancora una volta, sottolineo con forza, ogni responsabilità per un possibile spargimento di sangue ricade interamente sulla coscienza del regime che regna sul territorio dell'Ucraina. Ora, alcune parole importanti, molto importanti per coloro che potrebbero essere tentati di intervenire negli eventi in corso. Chi cerca di ostacolarci è ancora di più di creare minacce per il nostro paese, per il nostro popolo. Deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e vi porterà a conseguenze tali che non avrete mai sperimentato nella vostra storia. Siamo pronti a qualsiasi sviluppo degli eventi. Tutte le decisioni necessarie al riguardo sono state prese. Spero di essere ascoltato. Cari cittadini russi, il benessere, l'esistenza stessa di interi stati e popoli, il loro successo e la loro vitalità, hanno sempre origine nel potente apparato radicale della loro cultura e valori. Esperienze e tradizioni dei loro antenati e ovviamente dipendono direttamente dalla capacità di adattarsi rapidamente ad una vita in continuo cambiamento, dalla coesione della società, dalla sua disponibilità a consolidarsi e a raccogliere tutte le forze per andare avanti. La forza è necessaria sempre, sempre, ma può essere di qualità diversa. La crescita della politica dell'impero della menzogna che ha parlato all'inizio del suo discorso risiede principalmente in una forza grossolana e diretta. In questi casi diciamo che la forza non è necessaria per pensare, ma voi e Dio sappiamo che la vera forza sta nella giustizia e nella verità che è dalla nostra parte. E se è così, allora è difficile non essere d'accordo con il fatto che sono la forza e la volontà di combattere che stanno alla base dell'indipendenza e della sovranità, sono le basi necessarie per costruire in modo affidabile il tuo futuro, costruire la tua casa, la tua famiglia, la tua patria. Cari connazionali, sono fiducioso che i soldati e gli ufficiali delle forze armate russe devoti al loro paese adempiranno al loro dovere con professionalità e coraggio. Non ho dubbi che tutti i livelli di governo, gli specialisti responsabili della stabilità della nostra economia, del sistema finanziario, della sfera sociale, i capi delle nostre aziende e tutte le imprese russe agiranno in modo coordinato ed efficiente. Conto su una posizione consolidata e patriottica di tutti i partiti parlamentari e delle forze pubbliche. In definitiva, come è sempre stato nella storia, il destino della Russia è nelle mani affidabili del nostro popolo multinazionale. E questo significa che le decisioni prese saranno attuate, gli obiettivi fissati raggiunti e la sicurezza della nostra patria sarà garantita in modo affidabile. Credo nel vostro sostegno, in quella forza invincibile generata dal nostro amore per la patria.